Ciao ragazzi, mi sono intrufolato in questo canale perché insomma tu avevi pochissimi insulti ed è giusto che ne abbia di più Quindi andate a cannone No, allora, sono qua con Blink46 Per montare il mio computer 1.9 7980XE Sono 18 core 36 thread No sense 64 giga di RAM Cosa molto economica è sicuramente il case Vuoi spiegarlo tu qual è? Sì, è un H-Frame dell'Inwin Questo è solo 1500€ Probabilmente uno dei case più costosi Sì, tra i più costosi dell'Inwin Infatti è anche un'edizione limitata, è quasi introvabile Esatto, perché anche l'Invida Edition Cazzo l'hai trovato? No, mi sono portato avanti visto che comunque il mondo dei componenti Diciamo che corre più veloce di qualsiasi altro mondo E mi sono portato avanti giusto di un anno L'anno prossimo già fa tutto schifo Qualche 50 anni diciamo Secondo me è un anno L'anno prossimo diremo ragazzi Sì, stai sicuro Vuoi aggiornarlo? Chidate, chidate Sempre così Per quanto riguarda lo storage abbiamo 2TB di SSD NVMe, il 960 Pro E poi c'è il 850 Pro, sempre 2TB Un altro TB della Crucial, sempre da 2,5TB Cos'è rimasto qui? Questo è un pezzo d'arte creato da Twister, ovvero da Lightbox Che ci permetterà di separare la parte superiore a quella inferiore e soprattutto far passare il liquido all'interno C'è anche una placca per la copertura dell'alimentatore e la parte inferiore Per dare quel tocco di ego che mancava Cos'è che manca? Tutto il rimpianto liquido e KVB? Cosa è interessante? L'alimentatore è incluso nel case Almeno, cioè ragazzi spendiamo 1.500 euro E colpo di scena c'è l'alimentatore inclusa Grazie, grazie davvero di quale No, la cosa che nessuno sa è che io ho lavorato per un lungo periodo in un negozio di computer Però assistente basic, quindi io il mondo del liquido non l'ho mai toccato E quindi mi piaceva insomma imparare e vedere come si fanno le cose veramente fighe La cosa bella è che Fabio ci ha chiesto di volerlo montare lui Quindi, ok, andremo a guante e disegneremo la cosa, vai Vi dico una cosa con grande esigenza Ho visto tutti gli altri video con gli altri personaggi Cazzo, ma montatevelo voi Vogliamo spiegare il perché delle 3 Titan XP? Il perché, perché c'è stato un errore da parte mia Perché gli ordini li faccio di notte Ho cliccato su più troppe volte E questo ha procurato una Titan XP in più Che utilizzeremo come la usurai? La vendiamo Va benissimo, quindi iniziamo con il montaggio Iniziamo con il montaggio Vai Vale, abbiamo preso questo processore Dai, vale Quindi iniziamo a togliere quello vecchio Esatto, sono due viti Hai tu i caccioviti? No, vado a prenderli Fantastico Hai tu? Siamo in una casa di modder e non ci sono i cacciovici Ma no, ci sono Che bello questo cosa Sarà interessante comunque Daniel Noi stiamo qui a guardare Sì, sì E lui fa tutto È andata così Ok, a posto Vai Lo mettiamo già sopra Vuoi fare le strisce allora? No, ma se gli fai la piega magari va lo stesso Ma no Dai, facciamo le strisce Ma vai taggela in due taggela Ok Sai per i bambini quelli disadattati Sì, per i bambini disadattati montano gli 9 Cioè, sicuro guarda Minchia, piccoli Einstein Ma scusa, ma lo monti con le freccine e viene l'Intel al contrario Eh, per i bambini Facciamo un applauso, l'ingegnere è sempre lui Sempre, sempre, sempre lui È sempre lui È lo stesso che ha fatto l'imballaggio Sì, sì, sì Bravo Vai E poi d'alto E esplode in faccia a qualcuno No, perfetto Ok, tu voilà A posto Beh, è una X perfetta Non è una X, ha fatto un quadrato Ha fatto un quadrato Stringo a cannone o stringo mediamente? No, stringi, stringi Deve arrivare in fondo Deve arrivare Tu tira Anche perché devi pensare che Vedi così è esagerato È esagerato? Sì Vai Cioè, mi sembra No, è vero È rischioso, perci No Ok, è legione E questo qua c'è l'Aurasync Che si collega a tutto Sì, eccolo, vedi Questo è il connettore Aurasync Ottimo Beh, comunque ringraziamo l'ingegnere Per averti lasciato queste rondelle utilissime E soprattutto belle Ma è quello che hanno licenziato da Intel Dopo aver fatto la confezione Sì, sì, è lo stesso Suppongo che sia quello Vai E le andò Ho paura di fare un danno atomico Ma è un rinforzo quello È tipo una sorta di arma Che nel caso sbagli Ti demolisce le rampe sempre Ok Tu hai la tua notte la nostra Che brutti slot che ho Ricordate che ci sono anche le altre da qua Vabbè, iniziala qua Anche lì ci sono i connettori Ok, ok Ok, posso Connettore dove? Eh, da in fondo Ok Smetti che devi riutilizzare il dissipatore originale Cazzo, è proprio io La mattina mi sviluppo e dico Chissà quando arriverà quel giorno Ecco, ma che bella Spettacolo Ecco, ma che bella Ecco, ma che bella Siamo arrivati alla fine Dopo ormai due mesi Ci è voluto un po' di tempo Per organizzare Diciamo Tutti i vari incontri Per motivi di tempo Per tutti quanti Vediamo Da qua dietro la notte No, è bello Grazie Grazie Io non mi prendo Io non mi prendo assolutamente Il minimo merito Ha fatto tutto Daniel Ha fatto un lavoro Veramente incredibile Con tutti i cavi sleeve Personalizzati Tutte le rifiniture Con firme Illuminazione Tutto sincronizzato Grazie Fabio Per avermi dato l'occasione Di portare Questo spettacolo Sul canale Daniel Per averci dato Una grandissima mano A realizzare tutto quanto Ovviamente in descrizione Trovate tutti i vari link Dei social Miei Loro Se volete seguire Daniel Con tutti i lavori Che realizza in questo modo Fabio non penso Avete bisogno di presentazioni Suitemi su Instagram Esatto È sconosciuto Facciamolo crescere Quindi Da Blink Fabio Daniel è tutto E ci vediamo con il prossimo video Ciao 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 ciao